Il comune di Castorreale era stato raggiunto qualche mese fa, il mese di novembre del 2023, da una comunicazione di avvio del procedimento per il recupero di alcune somme che erano state erogate in fase di finanziamento contro il distesso di teatro geologico. La nota perveniva al nostro comune dall'assessorato del territorio e dell'ambiente e in particolar modo dal Dipartimento dell'ambiente. Cosa si contestava? Si contestava un appalto che, a modo di vedere, dell'assessorato era stato frazionato, richiamando una linea ANAC del 2015. Dopo alcune interlocuzioni informali e formali, perché il nostro comune e i nostri uffici avevano redatto delle note a suffragare invece la validità del procedimento, non si è raggiunto un accordo per il ritiro in autotutella del provvedimento e quindi il nostro comune è stato costretto ad adire le vie legali. Ci ha seguito in questo iter giudiziario al Tardi Siciliano, sezione staccata di Catania, l'avvocato Arturo Omero. Grazie alla memoria difensiva presentata in sede cautelare abbiamo ottenuto la sospensione del provvedimento che ci vedeva chiamati a restituire la somma di 121 mila euro. Siamo molto fiduciosi nell'accoglimento del merito, il merito si svolgerà nel mese di ottobre perché sono confortanti le motivazioni, anche se naturalmente delle motivazioni sommarie che hanno espletato i giudici catenesi della sezione staccata di Catania, in quanto appunto, come aveva già fatto rilevare il comune nelle varie interlocuzioni, la linea ANAC a cui si faceva riferimento era stata ampiamente superata sia dalla giurisprudenza sia dalla stessa ANAC con successive linee guida. Tant'è vero che gli incarichi per geologici non vengono computati come spese di progettazione.